Buongiorno per Notizia Abruzzo, siamo a Pescara in compagnia di Berardino Fiorilli, esponente provinciale, anzi responsabile provinciale di azione politica. Allora, innanzitutto un commento sull'elezione provinciale che ha visto la vittoria del centrodestra con Antonio Zaffiri, il nuovo Presidente dell'amministrazione provinciale di Pescara. Un suo giudizio sulla campagna elettorale e su azione politica di cui lui e lei è un esponente. Innanzitutto faccio gli auguri al neopresidente Antonio Zaffiri, un bravo sindaco che ha dimostrato negli anni di essere capace di essere vicino al territorio e che oggi meritatamente ricopre un posto assai difficile dove dovrà lavorare molto, ma siamo sicuri che saprà farlo nel migliore dei modi. Credo che questo sia un risultato eccezionale per il centrodestra e credo che abbia un grosso merito in questa operazione, tra virgolette, di messa insieme di tutte le forze, proprio la nostra lista civica. Perché? Perché io credo che abbiamo fatto un lavoro semplice ma in queste circostanze apparentemente difficile, cioè quella di riunire intorno a un tavolo tutte le forze, farle ragionare per il bene del territorio e soprattutto riportare le istanze dei cittadini a chi oggi amministra la politica e qualche volta purtroppo dimentica quali sono le vere esigenze dei cittadini. Credo che le liste civiche, quelle vere, servano proprio a questo, a portare il patos, il sentimento dei cittadini nella politica e quindi riportarle un attimo con i piedi per terra. Le scelte fatte con i piedi per terra per il territorio danno sempre buoni risultati. Lei è stato anche vice sindaco per il centrodestra al Comune di Pescara, adesso lei tornerà come dire a essere protagonista nelle prossime elezioni comunali a Pescara con azione politica. Quale potrebbe essere un suo programma e progetto per la città di Pescara? La città di Pescara ormai è ferma da quasi 5 anni, questa giunta, anzi magari fosse ferma, direi che siamo tornati indietro, veramente tornati indietro di tanti anni. Questa giunta ha fatto danni, in qualche caso forse irreparabili, che comunque richiederanno tantissimo tempo per essere messa su. Abbiamo lasciato una città con opere realizzate al 99% che purtroppo sono stati capaci di distruggere, quelle già fatte le hanno trasformate in qualcosa che non è più quella idea di città che avevamo, quindi si tratterà di rimettersi subito al lavoro per una città vivibile. Non è possibile che una giunta di centrosinistra che professa tanto l'ecologia e la città sostenibile poi come prima operazione spot sia quella che riapre il corso Vittorio Emanuele trasformando in una via di traffico e di smoglio, ma quello è il simbolo del degrado della città. Potremmo parlare di mille cose, del mare inquinato, di tutta la sciatteria che c'è nella gestione della cosa pubblica. Si tratta di rimettersi subito al lavoro per riparare i danni procurati e per rimettere in moto una città che ha tutte le potenzialità per essere una grande città, ma che purtroppo spesso è governata da chi ha la mentalità ancora da piccole paesine di provincia. Bene, lei aveva annunciato un'iniziativa sulla sicurezza a Pescara, sicurezza che lei ha annunciato come azione politica, come iniziativa anche di azione politica. Quando ci sarà questo convegno di battito? Il convegno ci sarà al 99%, ancora siamo in definizione degli ultimi particolari con i relatori, quindi è difficile mettere insieme, il 16 di novembre, quindi questo tra pochi giorni. Se non fosse così lo confermerò a breve. La sicurezza è un tema importante perché non è soltanto un problema di ordine pubblico, ma è un problema di come impostare la vivibilità in città, come volere la propria città e far sì che sia una città vivibile per tutti. Su questo stiamo lavorando da anni, lo stiamo facendo sia con la tecnologia che oggi ci ha un grandissimo aiuto per poter far sì che alcune zone, quelle che non è possibile presidiare continuativamente, siano comunque presidiate da sistemi di telecamere intelligenti che nella città già abbiamo o avremmo se le facessimo funzionare, così come tanti altri piccoli accorgimenti che rendono una città non soltanto bella, ma sicura è quindi vivibile. Bene, ringraziamo Berardino Fiorilli di Azione Politica e responsabile provinciale per Pescara. Grazie a lei e buon lavoro.